ciao a tutti amici io sono Franco Aversa e in questo tutorial vado a riprendere il discorso di mappa di elevazione IMAP e la displace map in DaVinci Resolve perché ho trovato quest'altro sito imap.skydark.pl dove si possono generare le IMAP e quindi vi faccio vedere un po' come funziona qui abbiamo ovviamente tutto il mondo possiamo con la rotellina del mouse zoomare e spostarci ovviamente sempre col mouse in un'area particolare oppure molto più velocemente cliccare sul menu qui dove possiamo selezionare una latitudine e longitudine e inoltre è anche possibile premere su I e ricercare una località ad esempio Alleghe qua Alleghe provincia di Belluno ecco qua vedete la località si riconosce perché abbiamo già selezionata l'area da questa evidenziazione di griglia con un'area verde al centro e qui possiamo anche scalare questa mappa quindi noi possiamo anche ingrandire manualmente la zona come vedete puntare nell'area interesse e possiamo diminuire quest'area o ingrandirla poi abbiamo tutta un'altra serie di opzioni per dei riferimenti sulle altezze una volta settato questo abbiamo possibilità di esportare diversi tipi di mappa ad esempio un IMAP RAW oppure un IMAP PNG abbiamo inoltre disponibilità di esportare l'immagine della mappa esportare un file zip con PNG e informazioni sull'attitudine oppure i dati OSM della mappa a noi quello che servirà per DaVinci Resolve ovviamente sarà l'immagine e il PNG dell'IMAP su questi livelli qui possiamo invece cambiare il formato della mappa abbiamo una prima mappa come vedete così con le altitudini e i nomi abbiamo una mappa con le strade abbiamo una mappa semplicemente satellitare e poi abbiamo una light dove abbiamo sempre riportato le altezze ma così con fondo tutto chiaro oppure la stessa con fondo tutto scuro ora andrò a fare questa outdoors dove abbiamo le altezze e i nomi quindi vado a scaricare un PNG l'importante è che la dimensione dell'IMAP sia corrispondente alla dimensione dell'immagine altrimenti sarà tutto sballato potete scrivere alleghe mappa altezza sul PNG e poi invece su quest'altra che è sempre PNG e scriviamo semplicemente mappa alleghe e qua finisce un po' il tutto e ci spostiamo in DaVinci Resolve adesso andiamo a importare i nostri file quindi alleghe mappa altezza e mappa alleghe l'importante ovviamente è importare delle piantine dove sia in presenza di montagne per altrimenti non ha senso se non ci sono elevazioni andiamo a costruire come al solito una new fusion composition inseriamo la fusion in timeline ovviamente e spostiamoci in fusion qui abbiamo il nostro media out andremo subito a mettere un image plane e andiamo a inserire su questo image plane la mappa ecco qua il nostro media in andiamo a vedere cosa vediamo ecco qua la nostra mappa andiamo a vedere sull'image plane abbiamo semplicemente mappato l'immagine su un piano ora andiamo a prendere un display 3d eccolo qua e andiamo a inserire la nostra mappa al tetto ok possiamo anche da qua controllare le dimensioni questa è la mappa altezza facendo così vediamo che 1081 x 1081 e l'importante che anche il nostro media sia 1081 x 1081 altrimenti le due cose non si interfacciano se avete una cosa così ad esempio esportato il 2560 x 2560 potete ad esempio rimpicciolire questa mettendo un resize e riportando qui 1081 sempre per 1081 come abbiamo in questo caso quindi da qua da resize la nostra mappa è stata ridimensionata vediamo nel display se questo gran pasticcio allora prima cosa da fare è che l'image plane abbia una alta suddivisione quindi su suddivision dobbiamo andare a inserire più alta è la suddivisione meglio è proviamo con 100 per il momento e adesso sul display andiamo a abbassare tantissimo questo valore ecco qua adesso la nostra mappa vediamo che è rovescia quindi andiamo a inserire un merge e con questo merge andiamo a ruotare andiamo a visualizzare e andiamo a ruotare semplicemente il piano di meno 90 eccolo qua e come vedete ci ritroviamo le nostre la nostra mappa con tutte le altezze perfette ricordate più suddivisioni al piano senza esagerare ma più suddivisioni e più le altezze e saranno morbide fra fra un'altezza e l'altra meno suddivisioni avete e avrete più una cosa a squadrettata a scalare quindi la suddivisione del piano è veramente importante altra cosa importante e di space dovete lavorare su basse misure ecco ci sarà ovviamente un rapporto tra l'altezza reale e questa scala purtroppo è impossibile in questa fase calcolarlo bisognerebbe capire a cosa corrisponde l'elevazione che ne so ad esempio del lago di galleghe alla punta e trovare una scala che sia idonea a non fare una cosa esagerata ovviamente più la mappa sarà nel dettaglio della località e più quell'area sarà dettagliata più l'area sarà larga e meno dettagliata sarà magari sul particolare per avere poi un effetto proprio dal punto di vista del più scenico andremo a utilizzare luci e ombre quindi andiamo a aggiungere un altro merge andiamo aggiungere anche a questo il render e andiamo a visualizzare ciò che vediamo fuori qui abbiamo la mappa vista lateralmente quindi in questo caso andiamo aggiungere una telecamera qui con la quale potremmo impostarci la scena andiamo a tirare la camera vedete che qua ci muoviamo andiamo alzarci e ecco qua ci spostiamo e decidiamo da qua la nostra inquadratura ovviamente la camera dovremo ruotarla verso il basso per avere una vista eccolo qua che ci interessa della della piantina poi la camera ovviamente può essere ruotata su qualsiasi asse sulla camera avete anche l'angolo di vista che può farvi allargare il campo o restringere eventualmente potrete anche generare più mappe e agganciarle eventualmente fra loro magari anche con l'aiuto di un programma grafico in maniera da avere un'area più ampia andiamo a inserire delle luci proviamo con un direction light che va a segnare solo la direzione dei raggi andiamo ovviamente attivare sul render light and shadow vediamo ora è proprio molto in ombra perché i raggi sono puntati paralleli al terreno quindi qui sul trasform andremo a ruotare verso il basso questi raggi che potete vedere qui li ruotiamo e poi la direzione dell'ombra sarà data dall'altro asse come vedete ruotando io posso far cambiare questa direzione dei raggi mentre l'altro è solo il tilt quindi ruoterà nell'altro senso come al solito possiamo farlo anche attivando i controlli direttamente dal viewer per non avere questo effetto questo dipende dal materiale se andiamo sull'image plane e sul material abbiamo come vedete sulla specularità l'intensità di specularità che rende lucido o opaco il nostro piano è un esponente che va a schiarire o scurire di più nostro piano con questi due possiamo andare a regolare altrimenti possiamo andare a inserire dopo il piano un replace material e andare a giocare con il materiale del della nostra superficie ovviamente molto importante anche diffus material perché anche se poi lo mappiamo l'abbiamo mappato ma io posso andare a dare una dominante come vedete cambiando il colore del piano invece che bianco verso un qualsiasi altro colore qui andremo ovviamente all'uscita e ora qui possiamo fare qualsiasi tipo di animazione ad esempio l'animazione che vi consiglio se il punto della mappa e centrale ad esempio il lago e centrale qui possiamo far ruotare questo merge lungo quest'asse vedete quindi andiamo a inserire all'inizio da time ruler un keyframe poi andiamo alla fine e facciamo ruotare di quanto ci serve ecco attenzione a questa cosa qui del bordo eventualmente possiamo zoomare il punto di vista e ecco qua la nostra animazione che ovviamente adesso va a scatti perché sta calcolando i ram ma poi sarà fluida e ovviamente possiamo anche muovere la camera vediamo quando andremo fuori dai bordi qualche punto di vista allora invece ad esempio facciamo sorvolare la zona sulla camera possiamo attivare sia il movimento che la rotazione e far effettuare proprio anche un volo alla nostra camera attraverso attraverso tutta la nostra mappa ecco qua la telecamera che avanza e mentre la mappa sta leggermente ruotando ovviamente si può far calcolare nella render cash in maniera che dopo sia più veloce eccolo qua adesso i movimenti sono rigidi quindi sapete che potete sul nodo che va mostrato andare sull'espline visualizzare l'espline della camera cliccando qui e inserendo una curva e poi anche le singole curve si possono ammorbidire ed ecco l'animazione più morbida poi ovviamente una volta creata l'animazione se sul sito non avete spostato nulla mi sarà possibile anche avere che non so la vista satellite e esportare quella piantina importarla con la vista satellitare attenzione che ho notato che alcuni png non vengono caricati vi converrà a convertirli con qualche programma in jpeg non so il perché di questo errore forse quando superano determinate dimensioni io per far questo ho un ottimo programma file converter che mi permette come vedete il volo di convertire in qualsiasi formato allora adesso l'ho trasformato in jpeg e in questa maniera come vedete non ha nessun problema di importazione non so il perché di questo adesso vado a sostituire semplicemente questa mappa con l'altra e ottengo la stessa identica animazione con l'altra mappa anzi vi dirò di più possiamo utilizzare un nodo dissolve al quale facciamo entrare entrambi i media e va sul piano in questa maniera cosa potremmo fare attraverso il nodo dissolve potremmo dissolvere da una piantina all'altra ad esempio da una satellitare a una con le strade oppure addirittura dissolvere a metà questo anche durante l'animazione è molto simpatico andiamo a memorizzare ovviamente un keyframe andiamo avanti possiamo memorizzare anche un secondo keyframe se non vogliamo che le disolvenza parta subito quindi basta cliccare qua tasto destro set key e da qua a qua facciamo il passaggio ecco qua andiamo a vedere sulla edit ed ecco qua la nostra animazione adesso io l'ho fatta veramente a caso non devo vincere nessun oscar ma devo solo spiegarvi una tecnica a voi e poi si può abbellire in qualsiasi modo aggiungendo un cielo eccetera bene era proprio per farvi vedere questo sito come avete visto un altro sito dove poter generare le imap molto utili anche ad esempio in blender e altri programmi tridimensionali ad esempio anche bluff title io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo la prossima volta in descrizione lascio il link del sito ciao ciao iscriviti a questo canale youtube grazie per essere stato in nostra compagnia ci vediamo al prossimo video ciao